Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del telegiornale dedicata al corteo di protesta degli agricoltori a Gela contro il caro acqua, ha chiesto il ripristino delle dighe comunelli di Sueri e Cimia, l'abbattimento del limu sui terreni agricoli e la dichiarazione di calamità naturale per la siccità di questo inverno. Vediamo. L'avevano pronunciato che sarebbero usciti in piazza con i loro trattori e sono stati di parola. Gli agricoltori del comprensorio gelese contestano il caro acqua per irrigare i campi, chiedono il ripristino delle dighe comunelli di Sueri e Cimia e l'abbattimento del limu sui terreni agricoli. Un lungo corteo è partito da Via Europa ed ha attraversato il corso principale. Alla manifestazione hanno partecipato i contadini aderenti alle organizzazioni UPA, UNSIC e all'associazione Santa Maria. Una protesta che segue quella che vede coinvolti da oltre due settimane i lavoratori dell'indotto del Leni, i quali chiedono l'avvio del piano di riconversione dello stabilimento, così come concordato il 6 novembre del 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico. Il nostro territorio è assillato da gravissimi problemi. L'emergenza stamattina ci porta a lottare per la sospensione degli aumenti, la dichiarazione dello stato di crisi, l'esonio del pagamento Imo, ma è l'inizio di un'avvertenza che ovviamente si collega all'avvertenza Gela, perché stamattina oltre alla presenza dell'UNSIC rappresentata da me, dall'Unione Provinciale Agricoltore rappresentata da Paolo Maganugo e dall'associazione Santa Maria di Niscemi rappresentata da Gentile, volontariamente in maniera spontanea stanno partecipando anche i lavoratori dell'industria, anche altre organizzazioni di categoria e anche altre fasce ricollegabili a problemi che hanno i lavoratori con licenziamenti, fuoriusciti dal posto di lavoro o precarietà. Quindi è la fascia del bisogno che si allarga rispetto a un governo nazionale insensibile e sordo ai problemi di Gela. Quindi noi stiamo iniziando una lotta che si inserisce nella vertenza Gela per la quale occorrerà unire tutte le forze sociali, economiche, produttive, istituzionali e politiche affinché si riempie intanto di contenuto questa vertenza Gela e si continui a lottare. Ci sono dei settori che ormai sono al collasso, il nostro particolarmente perché le nostre istituzioni ormai ci hanno abbandonato e stiamo chiedendo con forza che non venga a morire l'ultimo settore probabilmente trainante di questa città perché ormai se noi consideriamo l'Eni sta chiudendo, porto non ne abbiamo, turismo non esiste, artigiano non ce n'è più, commercio non esiste più se dobbiamo fare morire pure l'agricoltura allora è giusto che parliamo di cominciare ad andarcene tutti fuori perché qua ormai non possiamo più vivere in queste condizioni. E ma chi dovrebbe intervenire? Allora in questo caso la protesta di oggi è rivolta, è chiaro che c'è un punto di riferimento stiamo parlando di aumento di acqua, aumento indiscriminato del costo dell'acqua però è chiaro che le responsabilità in questo caso, in questo preciso caso sono della Regione perché è la Regione che ha tagliato i fondi al Consorzio e quindi il Consorzio non può più permettersi di vendere l'acqua a 15 euro l'ora ma la deve vendere a 22. Quindi è chiaro che se la Regione non interviene come è intervenuta negli altri anni il Consorzio sicuramente non può ridimensionare le cose. Il comparto agricolo è al collasso, il grido d'allarme dei contadini, in corteo anche alcuni dipendenti della Clinica Santa Barbara. Sentiamo. Il comparto agricolo è veramente al collasso? Veramente al collasso in quanto l'acqua è un bene primario, senza acqua e senza le terre non si può fare nulla quindi aumentando i costi di gestione noi siamo costretti in un certo qual modo ad abbandonare le campagne in quanto non abbiamo più un reddito. Il problema è alquanto serio perché tutti i giovani agricoltori a questo punto non sappiamo quello che dobbiamo fare. Le istituzioni dovrebbero e debbono aiutare chi effettivamente lavora e che lavora tutti i giorni nelle campagne e effettivamente quando tutti i prodotti agricoli sono deprezzati, tutto ciò che si fa in campagna è deprezzato e disprezzato automaticamente la gente arriva al punto che si deve proprio ingavolare e mandare a tutto il diavolo. E questo dovrebbe essere l'inizio di quello che dovrebbe succedere prossimamente. E' molto difficile la situazione per i giovani, per i grandi e per tutti, per tutti i settori rappresento il settore dell'agricoltura, rappresento la mia categoria, in senso siamo in ginocchio non so a tutte le istituzioni politiche, aiutateci. Ai nostri microfoni l'imprenditore agricolo Francesco Vacirca. Il ciliegino a 40 centesimi si è no al produttore e non riesce a coprire assolutamente le spese. Io ho notizia che sui banchi di Padova, a Piazza dell'Erba, il ciliegino nostro è 4,90 euro. E così vale per i carciofi e così vale per le altre produzioni nostre. Ma allora a questo punto che stiamo a fare in campagna a lavorare? Perché i serricoltori, tutti i produttori di carciofi non sono oggi qui insieme a noi a protestare? Non è possibile sopravvivere. Questa mattina ha aderito al corteo anche una delegazione di dipendenti della clinica Santa Barbara. Siamo qua per protestare, per difendere, riavere il nostro posto di lavoro, dato che il nostro presidente della regione se ne frega altamente, perché come politici si sono messi da parte e abbandonandoci al nostro destino. Ma il vero vostro problema qual è? Il nostro vero problema è riacquisire il nostro posto di lavoro senza una motivazione ingiustificata di licenziamento. E quindi chiediamo giustizia nei nostri confondi e di riacquisire il nostro posto di lavoro. E questa mattina a rappresentare l'amministrazione comunale c'era l'assessore Francesco Salinitro, in sostituzione del sindaco, a Roma, per impegni istituzionali. Approfittando della mia presenza nella capitale, ha dichiarato Messinesi, ho portato alla piattaforma rivendicativa degli agricoltori dell'Interland gelese e all'attenzione del Ministero delle Politiche Agricole. Il nostro è un disagio economico l'ennesimo che dalla piazza adesso deve arrivare sui tavoli decisionali, perché chi sottovaluta l'allarme della popolazione è un irresponsabile. Intanto lunedì scorso il sindaco ha demandato al dirigente comunale Emanuele Tuccio di istruire la richiesta di declaratoria dello stato di calamità naturale a causa della persistente siccità che ha compromesso semina e raccolta. Questa sera la questione arriverà in Consiglio Comunale. Il Presidente Alessandrascia porterà in assemblea un documento redatto con i manifestanti alla fine della mobilitazione di oggi. Adesso ci occupiamo dell'avvertenza Eni. Gli operai dell'indotto che protestano ormai da 15 giorni hanno scritto una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi sottolineando di non avere bisogno di politiche a sostegno della povertà né tantomeno cassa integrazione o mobilità, niente assistenzialismo. Vogliono tornare a lavorare per ridare serenità alle proprie famiglie. Sentiamo. Scelgono la redazione di Canale 10, lavoratori dell'indotto dello stabilimento Veni di Gela per rendere nota una lettera inviata direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi. Presidente scrivono Siamo a essere fatti per il modo in cui il nostro Governo sottolinea che la crisi è alle spalle e che si stanno vivendo giorni di gloria. Noi lavoratori dell'indotto vogliamo ricordarle che grazie alle sue politiche industriali e del lavoro abbiamo perso tutto. L'indotto dell'ex raffineria è abbandonato. Le scriviamo questa lettera dopo aver trascorso 15 giorni al freddo, al vento dinanzi agli ingressi dello stabilimento manifestando il nostro malumore pacificamente. Ricordiamo benissimo, caro Presidente, la sua visita a Gela il 14 agosto del 2014. Qualche settimana prima l'amministratore delegato dell'Eni cambiò il destino della nostra città scegliendo Rivorno a Gela. Come forse lei sa o lo ha dimenticato, lo Stato detiene ancora il 30% di Eni. Le sue politiche industriali e del lavoro in questi ultimi tre anni ci hanno ridotto all'osso tanto ad aver perso il lavoro, la dignità, la salute, le case ed anche le famiglie. Grazie Presidente Renzi. Le ricordiamo che da buoni cittadini stiamo continuando a pagare le tasse finché possiamo. Non saremo mai lavoratori di Slebi. Non abbiamo bisogno di politica a sostegno della povertà, né tantomeno cassa integrazione o mobilità. Niente assistenzialismo. Vogliamo tornare a lavorare per ridare serenità alle nostre famiglie. Basta con le vostre contrapposizioni politiche perché a pagare sono sempre i più deboli. Basta con l'idea del libero mercato e della globalizzazione. Tutto ciò sta diventando un mercato degli schiavi. Adesso basta, basta, basta. Non ne possiamo più, Presidente. Intanto il Vescovo di Piazza Berina, Monsignore Rosario Gisana, sempre attento e vicino agli operai del diretto dell'indotto dello stabilimento della raffineria, domani alle 18 in Piazza San Francesco celebrerà una messa all'aperto per non far perdere la speranza. La preoccupazione del prelato è che al dramma si possa aggiungere altro dramma, cioè quello di rivolgersi agli usurai e favorire ulteriormente la mafia, la malavita organizzata che è in agguato, approfittando dello stato di disfrazione degli operai e delle loro famiglie. Alla celebrazione eucaristica parteciperanno, oltre agli operai e ai sindacati, la città tutta ed il clero di Gela, dove è possibile le chiese saranno chiuse per far partecipare tutti alla preghiera. Oggi intanto il Vescovo riunirà l'osservatorio socio-pastorale cittadino per fare il punto della situazione della vertenza Gela. La drammatica situazione in cui versano la città di Gela e tutti i gelesi non ci permette più di indugiare, attendendo miracoli e geste eroiche. I socialisti del nuovo PSI prendono atto della sospensione del proprio partito, dal gruppo consigliare del PD e della totale mancanza di lucidità della giunta comunale e chiedono per il bene del paese le dimissioni immediate di tutto il consiglio comunale e della giunta. Lo scrive. Bruno Antonuccio, coordinatore provinciale di Caltanissetta del nuovo PSI. In questi mesi, si legge, abbiamo assistito in silenzio a vicende che osiamo definire vergognose da un punto di vista politico e amministrativo. Abbiamo viste protagonisti di anni di pessimo governo scendere in piazza per protestare. Non si sa bene contro chi amministratori in carica chiedere l'aiuto di chiunque purché portatore di qualche idea da applicare nell'immediato. Garanti del protocollo del 6 novembre accorgersi soltanto ora che gli accordi firmati più di un anno fa erano vuoti e senza prospettiva. Tutto questo ci porta a chiedere una presa d'atto da parte di chi governa questa città di una situazione ormai non più rimediabile né rinviabile. La città oggi più che mai ha bisogno di una classe politica forte e competente che abbia ben chiara la strada da percorrere. Il problema non riguarda solo la rappresentanza ma si fonda sul dramma della mancanza di interlocutori politici all'altezza del momento drammatico. La nostra città non ha nessuna prospettiva, nessun futuro, nessuna possibilità di rialzarsi se non vengono prese decisioni politiche che ne indirizzino il futuro economico. E ieri a Palermo audizione alla Commissione Attività Produttiva e all'Assemblea regionale siciliana ENI ha detto il project manager ha rispettato pienamente gli impegni presi nel protocollo del novembre 2014 e ad oggi è investito a Gela 200 milioni di euro. Il sindaco messinese si investano subito i 32 milioni di euro di compensazioni. Vediamo. Manteniamo la nostra posizione vigile e cauta anche di fronte agli impegni confermati da ENI alla Commissione Attività Produttive all'Assemblea regionale siciliana. Lo dice il sindaco di Gela, Domenico Messinese, dopo l'audizione di ieri a Palazzo dei Normanni in cui l'azienda del cane a se zampe ha ribadito di non voler abbandonare il territorio. Adesso si investano subito i 32 milioni di euro di compensazioni, ha dichiarato il primo cittadino che ha proposto il coinvolgimento nella programmazione del Consiglio Comunale e dei parlamentari regionali di Gela. Bisogna perseguire una politica di opere pubbliche, ha continuato messinese, in grado di tamponare l'emorragia occupazionale e dare decoro alla nostra terra. Per questo è necessario andare anche oltre il protocollo d'intesa con nuovi investimenti dell'ENI e le autorizzazioni chieste dall'amministrazione comunale al Governo centrale per avviare un processo virtuoso sull'espletamento delle bonifiche. All'audizione di ieri erano presenti alcuni consiglieri comunali, tra cui Salvatore Gallo, delegato dal Presidente Alessandracia, la deputazione regionale eletta in provincia di Caltanissetta, mentre non c'era alcun componente del Governo regionale, nonostante fossero stati invitati il Presidente della Regione e quattro dei suoi assessori. Un'assenza che pesa su una vertenza dolorosa, ha detto il Sindaco, e che spero non esaspere gli animi di chi finora si è alimentato di fato e speranze. L'amministrazione comunale resta al fianco dei lavoratori in attesa, che nel più breve tempo possibile si diano risposte concrete e non parole vuote di sostanza. E Luigi Ciarrocchi, project manager di Eni a Gela, ha detto che Eni ha rispettato pienamente gli impegni presi nel protocollo del novembre del 2014. A oggi ha investito a Gela 200 milioni di euro. Una società che pensa di lasciare Gela non investe certamente 200 milioni di euro. L'Eni, ha continuato Ciarrocchi, ha sostenuto che nel 2015 sono stati 1.062 lavoratori dell'indotto collocati a fronte dei 900 previsti nel protocollo del 2014. Dal novembre di due anni addietro, ad oggi, sono stati aperti a Gela 53 cantieri per il risanamento ambientale, la manutenzione e la produzione. Per quanto riguarda la rafineria, Ciarrocchi ha sottolineato che Eni sta portando avanti l'ingegneria di dettaglio utilizzando altre risorse umane e che questo mese apriranno nuovi cantieri che impegneranno un centinaio di lavoratori per lo smontaggio degli impianti anticipando i tempi legati alle procedure burocratiche assumendosi così un rischio industriale. Rassicurazioni anche sui 32 milioni di euro garantiti da Eni come compensazione al territorio di Gela finora sono stati spesi 150 mila euro. Altri 150 mila euro sono già destinati ad interventi sul porto. Lutto nel mondo medico gelese è morto all'età di 66 anni Alfio Tricomi molto conosciuto in città per la sua passione per la politica e lo sport. Era ammalato da tempo, era coordinatore medico del servizio presso il centro di continuità assistenziale e guardia medica. Il 26 ottobre scorso la famiglia Tricomi aveva subito un altro gravissimo lutto la morte di Stefania, 44 anni, stroncata anche lei dal cancro. Polizie e carabinieri indagano sui due incendi che si sono verificati la scorsa notte a Gela in via Germania, nel quartiere Caposoprano. Le fiamme hanno danneggiato la Fiat 500 di un'impiegata di 45 anni in via Francesco Crispi. Il fuoco ha interessato la Opel Zafira di un panettiere. Termina la prima parte del nostro telegiornale. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Carnevale 2016 a Gela, stilato il programma promosso dall'amministrazione comunale, si partirà sabato 6 febbraio dalle 20 a luna con la Notte Bianca. Appuntamento in Piazza Umberto, lato Chiesa Madre, con la sfilata di moda organizzata da Conci Event. E ancora gastronomia, distribuzione di frittelle. I negozi del centro storico rimarranno aperti fino a mezzanotte. Domenica 7 febbraio, dalle 18 alle 21, sfilata e animazione della banda musicale. Lunedì 8 febbraio alle 9, al Palacossiga, festa di carnevale organizzata dalla scuola di primo grado, secondo circolo didattico. E martedì 9 febbraio, dalle 10 alle 13, sfilata in maschera, con gli alunni delle scuole primarie e secondarie. Banda musicale, maggiorette. Dalle 10 alle 14, in Piazza Umberto I, gastronomia e distribuzione di frittelle, a cura dell'Istituto Alberghiero. Alle 13 e 30, in Piazza Umberto I, premiazione della scuola per la maschera più bella, a cura di Gela Centro e Conci Event. Dalle 18 alle 21, sfilata e animazione della banda musicale. In Piazza Umberto I, gastronomia e distribuzione di frittelle, ancora a cura dell'Istituto Alberghiero di Gela. Sono cominciati oggi nella Chiesa di Sant'Agostino. I 15 giovedì di Santa Rita saranno celebrate due sante messe, alle 9 e alle 18. Il 22 maggio, giorno della festa dedicata alla Santa di Cascia, presiderà una solenne messe in Piazza Sant'Agostino. Il Vescovo Monsignor Rosario Gisana, con la benedizione delle rose. Open day al Liceo Classico Eschilo di Gela. I docenti e gli alunni hanno accolto i genitori e gli studenti delle terze classi, delle scuole medie, per far conoscere la scuola, la sua offerta formativa, le metodologie e la didattica applicate. Stiamo celebrando il L'Estilo in scena, una manifestazione equivalente a un open day, cioè una scuola aperta in una giornata per farsi conoscere dalla comunità. Nell'Aula Magna sono pronti i ragazzi che sono venuti a fare visita alla scuola e qualche professore introdurrà il discorso, il Preside saluterà gli intervenuti e i ragazzi, specialmente quelli degli ultimi anni, faranno poi, dopo un piccolo spettacolino, da Cicerone alla visita che i ragazzi vorranno fare nella nostra scuola. Siamo felici di essere nella comunità, ci piace che siamo scelti, ma non perché vogliamo avere un numero in più di altri, ma perché siamo convinti che il metodo di studio che si apprende al liceo classico e al liceo dalle scienze umane, oggi parliamo solo del liceo classico, è particolarmente utile per affrontare le difficoltà e i problemi della vita. è prevista una celebrazione eucaristica che avrà inizio alle 15 presso la casa di riposo Antonietta Aldisio. Giovedì 11 febbraio, giornata mondiale del malato in Chiesa Madre con la presenza del personale volontario e delle varie associazioni di volontariato. Domenica 14 febbraio, celebrazione eucaristica presso la casa di cura Santa Barbara. Il comitato femminile della Procivis di Gela organizza per domenica a 7 febbraio alle 17 una festa in maschera oltre la disabilità. Appuntamento nei locali di Via Ossidiana al numero 23 con animazione, giochi di gruppo, baby dance e buffet di dolci. Proseguono gli appuntamenti musicali a Palazzo Principessa Pignatelli di Gela, domenica 7 febbraio alle 19 concerto pianistico a quattro mani con Sara Musumeci e Tiziana Terranova, il direttore artistico della manifestazione e il maestro crocifisso Ragona. Appuntamento col teatro al Comunale Eschilo di Gela, sabato 6 febbraio alle 17.15 alle 21.15 Maglio Dovie e Matilde Brandi si esibiranno in spettacoloso con Cosimo Coltraro e Ciro Pusateri. Per informazioni 093-911-892 oppure 345-5880-580. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte, lasciate libero lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte il 17 febbraio prossimo. Continuano gli appuntamenti locali organizzati dall'associazione FIAB Gela Nanocicli nell'area pedonale dei Muretti di Macchitella, domenica 7 febbraio prossimo. Sarà allestito un gazebo informativo, sarà come sempre l'occasione per i cittadini di incontrare la FIAB Gela, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, nanocicli sul territorio per conoscere tutte le attività legate alla promozione della ciclabilità urbana, della mobilità sostenibile e la salvaguardia ambientale in città e a livello nazionale. Sarà possibile inoltre ritirare il calendario 2016 ricco di impegni e divertimento. Siamo allo spettacolo, appuntamento col teatro all'antidoto di Macchitella Gela. Oggi alle 21.30 la compagnia GT Maio porterà in scena oggi sposi di Pietro Barbaro. Per informazioni bisognerà contattare il numero 093 38 227 07 oppure 338 71 43 293. Con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui, vi ricordiamo che notizie, servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro canale.